Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo vicino al paese di Filettino, a zona di altopiaglia di Alcinazzo, sui Monti Simbruglini. Facciamo un'escursione fino poco sopra Campostaffi, sul monte chiamato Monte Viperella. Vediamo un po' come va a finire. I moschi si attaccano? Si va al vicino? Non lo so, non ti conviene Margù. Grazie. 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 Agudirmpi. Grazie. Grazie. ... ... Sììì.. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti